Un'altra tragedia sconvolge la nazione il 9 ottobre 1963. Un'enorme frana precipita dal monte Toc nelle acque del Vaillon. Un'ondata alta a 200 metri travolge immediatamente i paesi vicini. L'Ungarone, Rivalta, Pirago, Villanova, Faè, Erda, Casso, Castellavazzo sono ridotti accumuli di macerie di fango. Muoiono 2500 persone, migliaia sono i senza tetto. I vigili lavorano ininterrottamente per 72 giorni salvando la vita di oltre 70 persone e recuperando i corpi di 1243 vittime.